e bella a tutti ragazzi e ragazzi del vostro polo di guala 21 questo è un video corto breve per farlo contro sto testa di cavolo di ermutande e questo video è dedicato ad andrea come roba la prossima volta tu vedrai maledetto che tu ci viene di insultare cose così pezzo di merda perché tu non sei nulla in confronto al nostro gruppo che siamo noi sul canale di andrea quindi tu non comincerai a rompere le scatole e noi non ti cagheremo più è il primo e l'ultimo video che faccio su di te hai capito piccolo pezzo di merda che tu non guadagni niente testa di cavolo i tuoi iscritti sono soldatini del cavolo ok e andrea mi raccomando continuo così che tu sia un grande hashtag fino alla fine forza io ciao ragazzi ciao ciao è stato un mini video